Ma altre orecchie seguono la conversazione, quelle dei poliziotti. Il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia. Ci siamo procurati questo documento. Pronto? Pronto! Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Eh? Che succede? Si ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? È da una serie di riduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ah, è fuori? Sì, è fuori. Eh, ma lo sapevo già. E questa cosa, Vittorio, come l'ho vista, è fatta con un chio di polvere nera, una cagolzissima. Ah. L'ho fatta con molto rispetto, quali per l'affetto. Ah. E' stata fatta soltanto sui dati eletti esterni. Ah. Ecco, secondo me, un altro manderebbe una lettera, o sarebbe una telefonata. Lì, la sua bomba. Allora, la mangano. Eh? Sì, sì, sì. Un chio di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì, sì. Cioè, proprio come dire, faccio sentire. Senti, sono qui presente. Sì. Uno, uno, una... E' una donata comandata, caro dottore. E qui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Sì. Sì, sei la vita. No, ma... Sì. 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 Mi ha telefonato io 30 milioni. Sì. Sì. Catalizzatissi. Sì. 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 Sì.